Seicento Super Sport nella seconda gara, questo primo round dal Misano World Circuit con l'Elfchiv 2019 è una ripartenza per quello, c'è stata l'esposizione di una bandiera rossa, per quello è Massimo Roccoli a scattare dalla linea della pole position che invece era stata ottenuta da Lorenzo Gabellini questo restart veloce, Michael Canducci, eccolo qui, sobito l'attacco va a passare Roccoli insidioso anche Lorenzo Gabellini che oltre alla pole ha già vinto la gara del giorno precedente poi le loro spalle Stefano Valtuli, un po' più staccato Kevin Manfredi con Mercandelli sullo sfondo che però non riesce a recuperare sul gruppo dei primi è grande battaglia accesa in quella che è una gara che è diventata di 11 giri dopo la ripartenza dalla lotta molto serrata tra Gabellini e Roccoli, ci prova Roccoli a resistere, un paio di controsorpassi a Gabellini poi Gabellini però fa valere la sua velocità e soprattutto la perfezione, un stato di forma perfetto in questa simbiosi pilota moto davvero eccezionale in questo weekend di Misano e va alla quercia ad attaccare con decisione anche Canducci nel momento in cui Valtulini va a scavalcare Massimo Roccoli e addirittura Gabellini ha la forza per allungare mentre Valtulini purtroppo incappa in questa scivolata mentre stava cercando di rimanere agganciato a Canducci per giocarsi tutte le carte nel finale arriva la vittoria, bellissima doppietta Misano per Lorenzo Gabellini e secondo Michael Canducci e nel finale Kevin Manfredi quasi riesce ad attaccare Massimo Roccoli ma Roccoli comunque chiude in terza posizione ma è super Lorenzo Gabellini che inizia la grandissima questo Elf Chief Supersport